Ci sono anche minorenni tra i nuovi positivi nella provincia di Pesero Urbino. I contagi infatti stanno aumentando in linea con il trend nazionale ed europeo. Se ad inizio luglio nel territorio dell'area Vasta 1 si registravano 5 contagi, oggi ne sono stati rilevati ben 38. Un dato illustrato dal dottor Giorgio Cappelli che spinge l'Azura a ribadire l'importanza di tenere alta l'attenzione e di sottoporsi al vaccino, in particolare chi rientra nelle categorie a rischio. Le fascigliette apucolpite sono soprattutto giovani e fortunatamente non abbiamo casi, sono paucisintomatiche, forme paucisintomatiche e comunque sempre da controllare anche perché questi sintomi, anche se siamo in un periodo stagionale che può in qualche maniera giustificare sintomi simili tipo raffreddore, naso chiuso, mal di gola, non bisogna mai sottolineare sottovalutarli e pensare anche a possibili infezioni da Covid, insomma da SARS-CoV-2. Dopo gli europei ci si aspettava anche un aumento forse più sostanziale. Questi casi possono emergere ancora a distanza di una settimana? Diciamo che la mediana dell'incubazione siamo intorno ai 6 giorni, 4-6 giorni, però il periodo che viene ritenuto utile come incubazione va da 1 a 14 giorni, quindi ancora purtroppo ci si possono aspettare degli aumenti. Intanto la campagna vaccinale prosegue sia con le prime dosi che con i richiami, in particolare ieri con Pfizer, AstraZeneca e poche dosi di Moderna. Purtroppo però si registra un calo generale delle prenotazioni. La maggior parte delle persone che tendenzialmente sono positive sono persone o non vaccinate o che non hanno anche concludere la vaccinazione con i cicli previsti, è sicuramente importante per avere una protezione effettiva dalla malattia, che anche se non è in termini di contagio poi è in termini di gravità dei sintomi. Intanto prosegue l'open day con la monodose Janssen. Purtroppo mi pare che non ci sia stato un gran affollamento, quindi l'invito anche a questi open day è cercare di partecipare anche perché sono rivolte ad una fascia di ripopolazione più a rischio, almeno sulla carta, che sono persone over 60 e quindi che hanno epidemiologicamente delle forme di infezioni da Covid più gravi e quindi a maggior ragione cercare di essere protetti. Grazie. Grazie.